Lo chiamavano il solista del Mitra, Luciano Lutring, il rapinatore milanese degli anni 60, morto la scorsa notte in ospedale, a Verbania, a 75 anni. Nei film ispirati al suo personaggio il solista del Mitra spara e uccide, è un artista delle armi da fuoco. Nella realtà, invece, non ha mai ammazzato nessuno. Ma non ho mai sparato colpo. Se dovessi sparare non so nemmeno come si fa. Non ho mai sparato, te lo giuro, guardi sinceramente. Rapine in banca, belle donne, alberghi di lusso e un Mitra nascosto nella custodia di un violino. Con questi elementi e lo stile colorito di quegli anni, i cronisti di Nera hanno costruito un mito. Rinvenendo nella custodia di violino con un Mitra, mi ha fatto questo nominio, la solista del Mitra, e lì è cominciato tutto. Per il piccolo Luciano, in effetti, i genitori avevano previsto una carriera da musicista, perciò lo avevano iscritto a lezioni di violino. Lui però aveva un carattere difficile, faceva lo spaccone, negli anni Sessanta guidava una Cadillac. Si era anche procurato una vecchia pistola canadese, che teneva sempre sotto la giacca, ma senza proiettili, perché erano fuori produzione. Un giorno mia zia mi ha mandato a pagare la bolletta della luce e mentre sono entrato in posta, l'impiegato, il cassiere che non mi prestava attenzione, stavo per voler pagare questa bolletta della luce, non muovendosi, gli ho dato una pacca lì sul banco e ne spostare la giacca, ha intravisto una pistola, ha detto dai muoviti su, questo qui si è mosso sì, mi ha cominciato a dare soldi, mi ha detto, mi ha detto prenda, prenda, prenda tutto, prenda tutto, prenda tutto che cosa? Io sono qui per pagare la luce, prenda, prenda, non mi faccia mai, prenda, prenda. Eravamo sotto Natale, ho pensato tra l'altro una donazione, qualche cosa, non so. Lutring alza il tiro, punta soprattutto alle banche, in Italia e in Francia, e gli va sempre bene, ciò che vuole, lui se lo prende. Passeggiando in galleria, ho visto lì un ermellino bianco su una vetrina di pellicceria, ho infranto la vetrina, ho portato via anche il manichino. Dopo sette anni di latitanza, ricercato dalle polizie di mezza Europa, la carriera del solista del Mitra si chiude nel 1966 a Parigi, dove viene ferito, è arrestato e condannato a 22 anni di carcere. Dopo 12 anni di carcere, il presidente francese Pompidou gli concede la grazia. Torna in Italia, sconta una breve pena anche a Brescia e ottiene la grazia anche dal presidente Leone. In carcere ha imparato a scrivere e soprattutto a dipingere. Di questo ha vissuto, come artista anche apprezzato, fino alla notte scorsa.